Come ogni 25 gennaio sono arrivate le previsioni meteo lunghe 12 mesi delle cipolle di Urbagna, tradizione antica al confine fra scienza e superstizione portata avanti dalla Durantina Emanuela Forlini che prosegue ogni anno nell'interpretazione dei 12 spicchi di cipolla cosparsi di sale ed esposti nella notte tra il 24 e 25 gennaio. Proprio il grado di scioglimento del sale consente un codice di lettura interpretativo di previsioni meteorologiche nella nostra provincia. Cipolle che hanno detto come dopo un gennaio atipico l'inverno proseguirà con temperature fredde anche a febbraio e marzo ma senza picchi di gelo. Aprile regalerà una primavera di tempo mite costantemente sereno, maggio sarà piovoso nella sua prima metà così come sarà instabile l'inizio di giugno ad avviare un'estate di bel tempo ma con una umidità sopra la media sia luglio che agosto. Clima estivo che si manterrà tale anche per l'inizio del mese di settembre. Le piogge caratterizzeranno ottobre e soprattutto novembre. Dicembre invece anticiperà un inverno secco e congelate anche nella prima decade del mese.